La testa è Cressi, riconosce il reperto? Sì, è stata messa in commercio dalla nostra ditta nel 1970. E' sicura? Sì, vede? Questo tipo di fibbia con gancetto lo fabbrichiamo soltanto noi. Ricorda di aver consegnato al Bozzano una cintura simile? Sì, nel marzo del 70. Bozzano riceveva da noi diverso materiale in cambio della pubblicità sul suo giornale, il marcatalo. Chiedo alla corte di domandare alla testa e quante cinture di quel tipo sono state vendute dalla sua ditta nel 1970. Beh, molte. Cosa intende per molte? Più di mille? Più di mille sicuramente. Bene, e allora abbiamo più di mille potenziali assassini sui quali indagare.